Regione Toscana, il Consiglio regionale. Benissimo, come abbiamo visto nel sommario, il primo e evidentemente il più importante tema oggi all'ordine della giornata del Consiglio, e non poteva essere altrimenti, il tema della vaccinazione. Dunque è venuto in sala stampa il Presidente del Consiglio, Mazzeo, insieme anche al Presidente della Giunta regionale, Eugenio Gianni, il tema appunto la vaccinazione in Regione, che tante polemiche ha suscitato nei giorni scorsi. Mazzeo, Presidente del Consiglio, ha precisato che il tema degli ultraottantenni è stato semplicemente determinato da una scelta che la Regione ha fatto, se vaccinare appunto questa categoria oppure finire la seconda vaccinazione, come sappiamo, del personale sanitario. Andiamo a sentire vari interventi, tra cui quello importante di Mazzeo. Oggi noi siamo di fronte alla sfida delle sfide, quella di vaccinare tutta la popolazione, ma se devo dire, dalle tante domande che ricevo, la questione più stringente sono due, perché avete vaccinato gli avvocati e perché siamo così in ritardo sugli over 80. E molte volte le due cose vengono legate, in realtà non sono, non devono essere legate, perché gli avvocati, così come il personale scolastico, delle forze dell'ordine venivano e vengono vaccinati col vaccino AstraZeneca, mentre per gli over 80 è possibile utilizzare solo il vaccino Pfizer. Noi oggi abbiamo somministrato già più di 428 mila dosi di vaccino Pfizer. Sono circa, ne abbiamo utilizzato, l'88% delle dosi ricevute, 234 mila agli operatori sanitari. Circa 31 mila agli ospiti delle RSA e più di 100 mila agli over 80. Cosa è successo? È successo che noi abbiamo ricevuto molte meno dosi di Pfizer di quelle che immaginavamo. E allora abbiamo dovuto fare una scelta. La scelta era somministrarlo agli operatori sanitari e concludere la seconda fase di vaccinazione oppure accelerare sulla vaccinazione degli over 80. Abbiamo scelto di completare la vaccinazione del personale sanitario di chi è in prima linea. È evidente che ora bisogna accelerare sugli over 80. Ne sentiamo tutta la responsabilità. Bene ha fatto il Presidente Gianni a dire che entro il 25 di aprile devono essere tutti vaccinati. Arriveranno 50 mila dosi in questa settimana e le faremo tutte entro venerdì. Noi siamo molto attenti a vedere se davvero i medici di medicina generale riusciranno a farlo. Se non ce la fanno loro allora entreremo in gioco noi con gli 30 hub sul territorio. E poi 70 mila la settimana successiva. Insomma il nostro obiettivo è davvero di recuperare il terreno tenendo conto che ad oggi abbiamo, come detto prima, vaccinato più di 100 mila over 80 in Toscana. Quasi il 90% degli over 90. Insomma sappiamo si può fare sempre di più e meglio e su questo dobbiamo accelerare perché il nostro compito è quello di vaccinare più velocemente possibile tutte le persone più fragili. Abbiamo presentato il question time all'assessore Bezzini in merito alle vaccinazioni degli ultraottantenni. Una categoria che in Toscana abbiamo visto è stata vaccinata tra le ultime d'Italia. Abbiamo visto dei dati veramente pessimi, vuol dire che qualcosa nell'organizzazione non ha funzionato. L'assessore ha preso un impegno e ha preso anche una responsabilità politica molto importante dicendo che da qui al 25 di aprile saranno vaccinati tutti gli ultraottantenni della Toscana. Si parla di fare circa 240 mila vaccini da qui al 25 di aprile, ha detto che 120 mila saranno fatti da qui al 4 di aprile. Noi saremo attenti a questi dati e a questi numeri perché questo è un impegno che noi attendiamo perché se il 25 aprile questo non fosse mantenuto non potremmo che chiedere le dimissioni dell'assessore. È evidente che quello che abbiamo vissuto in questi mesi sull'organizzazione e sulla struttura che riguarda esclusivamente i medici di base a cui l'assessore dice ancora di volersi affidare che chiaramente fanno il loro possibile anche la mancanza evidentemente di dosi dei vaccini Pfizer che sono quelli che sono destinati agli ultraottantenni sono in arrivo, sono in previsione di arrivo nel mese di aprile ma quello che a noi preme di più è che questi grandi anziani siano vaccinati il prima possibile perché proprio in questi giorni i numeri dei ricoveri stanno aumentando, i numeri dei malati Covid stanno aumentando e loro sono prioritariamente la categoria più fragile che si ammala. Quindi siamo stati i primi a sollevare il caso dei vaccini Pfizer che venivano fatti non solo agli ultraottantenni in fase esclusiva poi la Giunta è intervenuta, il Presidente in prima persona ha detto che evidentemente se tornasse indietro valuterebbe di fare i vaccini Pfizer in maniera esclusiva sugli ultraottantenni e gli altri vaccini alle categorie più giovani quindi dividere per fasce di età. Bene, se è stato riconosciuto un errore da qui in avanti non si può più sbagliare noi attendiamo questa data del 25 aprile come ha detto l'assessore Bezzini per valutare effettivamente che tutti gli ultraottantenni siano davvero vaccinati non è più tempo di fare proclami promesse ma c'è bisogno di serietà e concretezza in questo momento che vede la nostra regione in bilico con la zona rossa. Noi siamo molto allibiti da quello che sta succedendo in Regione Toscana tutti sanno che la Regione Toscana è maglia nera per quanto riguarda la vaccinazione degli over 80 addirittura i giornali fanno questa fotografia penultima Toscana è inaccettabile che in Toscana gli over 80 non siano ancora tutti vaccinati ormai sono mesi che sentiamo questa tiritera di li vaccineremo, saranno vaccinati, occorre farlo e occorre farlo subito ma non soltanto gli over 80, occorre vaccinare tutti ecco perché oggi abbiamo portato in Consiglio regionale una proposta semplice che prevede alcune cose da fare immediatamente vaccinazione 24 ore su 24 è assolutamente sconcertante che la vaccinazione si fermi alle ore 18 in paesi normali dove si vuole combattere il virus si vaccina 24 ore su 24 lo si fa ovunque, lo si fa anche supportati dall'esercito il secondo, gli over 80 devono essere non solo vaccinati per primi perché sono insieme ai super fragili malati oncologici, malati cronici ma sono quelli che hanno l'indice di mortalità 5 volte superiore a tutti gli altri e lo dobbiamo fare anche a casa ecco la vera novità over 80 vaccinati anche a casa poi dobbiamo fare lo scudo penale per chi va a vaccinare avete visto quello che è successo assistiamo a che un volontario magari un medico in pensione, un infermiere, un volontario somministra una dose vaccinale purtroppo questa dose vaccinale ha una reazione e il magistrato manda un avviso di garanzia al medico, all'infermiere o al volontario questo in un momento difficile come questo è assolutamente inaccettabile ecco perché abbiamo portato questo pacchetto di proposte all'attenzione del Consiglio regionale ci auguriamo che tutte le forze politiche lo votino perché abbiamo bisogno di un'accelerazione perché prima fermiamo l'emergenza sanitaria prima ripartiamo con la ripresa economica Noi l'ultima volta che abbiamo sentito l'assessore Bezzini in tema di vaccini ci ha detto che eravamo molto bravi che eravamo i primi, che eravamo i migliori il che sinceramente conta poco in realtà scopriamo purtroppo, ahimè e non vorremmo averlo appreso che la Toscana invece non è per niente la prima ma è addirittura l'ultima nella somministrazione sia dei vaccini rispetto agli over 80 sia rispetto al numero di persone vaccinate rispetto all'intera popolazione però nel frattempo si è vaccinato scansi ecco, allora noi riteniamo che su questo l'assessore Bezzini probabilmente qualcosa da dirci ce l'avrebbe avuto ci sarebbe piaciuto sentirlo in realtà il tema vaccini è fuori dal Consiglio regionale di oggi e di domani quindi siamo molto preoccupati vorremmo avere delle risposte e sinceramente di sventolare la bandiera dei primi non ci interessa perché non serve alle persone specialmente quando purtroppo si scopre di essere ultimi per quanto mi riguarda la mia presa di posizione serve cambiare metodo serve migliorare la Toscana non può essere l'ultima regione in Italia come il numero di persone vaccinate over 80 sono le persone che hanno più di 80 anni le prime vittime del Covid sono le persone più fragili i fragili fra i fragili ho definito e queste vanno aiutate vanno vaccinate velocemente entro Pasqua abbiamo chiesto di fare una metodologia più rapida abbiamo chiesto l'impiego della protezione civile abbiamo chiesto un'azione tempestiva abbiamo chiesto di vaccinare volontari del volontariato donne e uomini che dedicano loro tempo al volontariato utilizzare la protezione civile intanto vaccinare rapidamente e fare in modo che ovviamente anche le aziende sanitarie possano fare un'azione attiva una persona di 80 anni molte volte si può anche spostare i medici di medicina generale devono vaccinare le persone più fragili quelli che non si possono muovere le persone che hanno maggiore difficoltà devono avere però i vaccini a loro volta allo stesso tempo questa deve essere la priorità delle priorità non c'è più tempo da attendere abbiamo formalizzato le nostre richieste e aspettiamo nelle prossime ore un cambio totale, radicale dell'approccio a questo metodo di vaccinazione La Fondazione Gimbe parla chiaro con i suoi numeri a fronte di una media del 14,7% dei vaccinati over 80% in Italia la regione toscana è a 5,3% questi sono dati di ieri quindi la narrazione che sta andando tutto bene nelle vaccinazioni che stiamo procedendo spediti non è così riguardo le vaccinazioni complessive siamo circa a metà classifica in Italia la nostra proposta di inchiesta, diciamo di commissione di inchiesta specifica su vaccini come l'avevamo proposta noi in Movimento 5 Stelle era nell'ottica di cercare di creare un tavolo comune tra giunta organismi della sanità medici e forze politiche del Consiglio regionale per monitorare e cercare di implementare insieme un metodo efficace ci dispiace che sia stata rifiutata io comunque insisto a rilanciarla perché forse è uno strumento che può aiutare tutti sicuramente la Toscana non sta facendo bene e non solo per gli over 80 il caos che è successo anche per le pronotazioni i molti problemi l'informatizzazione che manca da parte degli anziani che devono in qualche maniera cercare qualcuno che per loro faccia le prenotazioni insomma tutto questo fa capire che c'è un sistema che non è rispondente alle esigenze del cittadino e va analizzato e cambiato Passiamo adesso alla scuola di formazione politica che appunto è stata discussa in Consiglio regionale con un importante finanziamento alla base che ha suscitato anche qualche polemica soprattutto come era logico attendersi tra i banchi dell'opposizione andiamo a sentire i vari pareri Oggi si sta scrivendo anche e soprattutto per merito di un ufficio di presidenza che sta lavorando in coesione anche con il centro-destra con i consiglieri del centro-destra che stanno dando un importante contributo ecco si è scritta una pagina diversa la scuola era istituita ora si trattava comunque di far sì che vi potesse essere un buon funzionamento perché quando le cose esistono di fatto occorre cercare insieme ecco di dare un buon funzionamento quello che chiedono i toscani che le cose oggettivamente funzionino buonsenso pragmatismo oltre posso dire ecco che vi è proprio quella politica volta al contenimento dei costi che a noi piace quindi una scuola di formazione che avrà sede in questo palazzo nel palazzo del prezzo del palazzo del Pegaso e siamo soddisfatti ecco per aver dato il nostro contributo l'abbiamo fatto con responsabilità con serietà con maturità ecco cerchiamo di far funzionare le cose bene in Toscana cerchiamo di pensarci bene quando si istituiscono ma una volta istituiti come è il caso della scuola di formazione facciamola funzionare almeno bene parlo anche di come si vorrebbe impostare questa scuola di politica la scuola politica la fa ciascun partito noi come movimento nelle formule che avvicinano il cittadino alle istituzioni a un percorso di politica intesa in senso puro, genuino avvicinarsi all'interesse di tutti della collettività e mi sembra un'iniziativa della regione toscana che non abbia un fondamento particolarmente forte sembra soltanto una delle tante iniziative è un'occasione per buttare via i soldi lo abbiamo detto in maniera molto chiara siamo l'unica forza politica Forza Italia è l'unica forza politica che ha votato no allo spreco di 300 mila euro in tre anni per formare chi? Chi dovrebbe essere già formato perché allora dovete chiedere a chi mandate nei consigli comunali nei consigli di quartiere nei consigli regioni in Parlamento la sai fare politica? La sai riconoscere una differenza fra una mozione e un'interrogazione? Se vi risponde di sì votatelo se vi risponde di no non lo dovete votare perché è inaccettabile che dalle tasche di un dipendente dalle tasche di un pensionato si vengano prelevati dei soldi e quei soldi servono per formare chi? I politici questo è il modo peggiore di fare politica Cortesi e attenzione che come sempre dedicati a questa nostra importante rubrica e vediamo appuntamento alla prossima puntata del Consiglio regionale della Toscana Salve a tutti Regione Toscana il Consiglio regionale Grazie a tutti Grazie a tutti